Benvenuti! Ecco un nuovo episodio di Italiano Bello e oggi voglio rispondere alla domanda che uno di voi ascoltatori mi ha fatto. Mi è arrivata una domanda per email in cui una persona chiedeva di parlare delle parole inglesi che si usano in italiano. Ed eccomi qui, questo è l'argomento dell'episodio di oggi. Come tutti sappiamo l'inglese è forse la lingua più diffusa oggi nel mondo o almeno in Europa. Tutti più o meno conoscono l'inglese, tutti più o meno dovrebbero studiare l'inglese. L'inglese è la lingua del business, è la lingua tecnica di molte cose. L'inglese è una lingua tecnica e l'inglese è una lingua di scambio, di comunicazione. In italiano, come in molte lingue, credo, usiamo alcune parole inglesi che oggi sono entrate nell'uso comune, sono entrate nell'uso comune, cioè le conosciamo tutti e le usiamo tutti. Molto spesso, molte volte, anche se esistono parole italiane per dire la stessa cosa, usiamo la parola inglese. Perché? Boh, forse perché siamo ormai molto abituati, forse perché ci sentiamo più intelligenti se usiamo l'inglese. Non lo so, la verità è che succede, quindi la verità è che nel linguaggio italiano di tutti giorni spesso oggi si sentono alcune parole inglesi. Ovviamente pronunciamo queste parole con la pronuncia italiana, non sempre con la perfetta pronuncia inglese. Alcune persone dicono non va bene usare gli anglicismi, cioè le parole inglesi, bisogna preservare la purezza della lingua italiana, cioè la lingua italiana deve essere pura, non deve essere sporcata, non deve essere contaminata dalla lingua inglese. E alcune persone si arrabbiano molto quando sentono parole inglesi usate nella lingua italiana. Se volete sapere la mia opinione, se volete sapere cosa penso io, penso che come sempre la cosa migliore sia la via di mezzo, la via di mezzo. Quindi non usare troppi anglicismi, se no diventa anche difficile capire quando qualcuno parla, ma non succede niente se ogni tanto ne usiamo alcuni. Le lingue evolvono, le lingue cambiano, si trasformano nel tempo e le lingue riflettono la società. Le lingue sono come uno specchio che riflettono, che riflette la società, gli uomini, gli scambi tra i popoli, tra i paesi. E è vero, è vero che oggi il nostro mondo è fatto di reti, di scambi e di lingua inglese. Ma veniamo a cinque parole inglesi o cinque anglicismi che usiamo in italiano. Ve le dico subito, ma prima vi ricordo che potete sempre iscrivervi al corso gratuito pronti partenza via. È un video corso di quattro giorni, non costa niente e puoi iscriverti quando vuoi guardando il link qui sotto. E anche se hai già fatto il corso puoi farlo di nuovo. Ma ecco i cinque anglicismi. Numero uno, weekend. Noi in italiano lo pronunciamo così, weekend, weekend. Ti faccio due esempi. Oggi è venerdì, non vedo l'ora del weekend. Oppure abbiamo pianificato un viaggio per il prossimo weekend. Weekend vuol dire fine settimana, cioè i giorni di sabato e domenica. Possiamo dire fine settimana, il fine settimana in italiano, ma molte persone usano la parola inglese weekend. Il secondo anglicismo è shopping. Shopping significa fare acquisti, andare nei negozi e comprare. Comprare vestiti, comprare cose per la casa, comprare anche cibo. E' una parola che si usa molto spesso. Non diciamo quasi mai fare acquisti, ma diciamo fare shopping. Per esempio abbiamo fatto un giro in centro per fare un po' di shopping. Oppure mi piace fare shopping la domenica. Il terzo anglicismo è la parola computer. Molte parole legate alla tecnologia in realtà sono inglesi. Computer ma anche smartphone sono anglicismi che oggi usiamo tutti i giorni. Per esempio ho bisogno di un nuovo computer per lavorare. Oppure il mio computer si è bloccato, devo chiamare il tecnico, cioè la persona che ripara i computer. Un'altra parola sempre un po' tecnica legata alla tecnologia è email. Un'email è una lettera elettronica. Possiamo dire la posta elettronica ma spesso diciamo email. Per esempio mi è arrivata un'email, corro subito a leggerla. Oppure ho ricevuto la tua email e ti risponderò appena possibile. A volte diciamo email, a volte diciamo solo mail. E una cosa importante è che in italiano la parola email è femminile. Diciamo una email, non un email. Mentre in francese per esempio è una parola maschile, in italiano l'email è femminile. L'ultimo e quinto anglicismo è legato al mondo del business. Anche questo è un anglicismo ed è meeting, un meeting. Un meeting è una riunione quando molte persone che lavorano insieme si ritrovano nella vita reale o online, un altro ambicismo, e parlano, discutono del lavoro. Per esempio dobbiamo prepararci bene per il meeting di domani mattina. Possiamo dire anche riunione o assemblea ma nel mondo del lavoro spesso si sente dire meeting. Un meeting, due meeting. Quando usiamo le parole inglesi al plurale non cambiano. Quindi diciamo un meeting, due meeting, molti meeting. Un email, due email. Bene, quindi ecco i cinque anglicismi dei quali abbiamo parlato. Weekend, shopping, computer, email e meeting. Vuoi scrivermi se ci sono parole inglesi che usi nella tua lingua? Aspetto il tuo commento e ti aspetto anche in pronti partenza via. A presto!